Un pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori, siamo all'interno della Fiera dell'Evante circa 24 ore prima della cerimonia inaugurale, quindi manca davvero pochissimo. Come potete vedere qui c'è grande fermento, tutti gli stand sono in allestimento. Alle mie spalle potete già notare una delle grandi novità di quest'anno, un cielo di luminarie che saranno accese poi a partire dall'inaugurazione in poi. L'apertura è il pubblico subito dopo la cerimonia inaugurale, quindi a partire dalle 14 alle 14.30 e poi mancabili i settori dell'automotive, dell'arredamento e poi ovviamente la Galleria delle Nazioni. Pensate, 400 espositori, più il 40% in più rispetto allo scorso anno e tra le novità quest'anno proprio della Galleria delle Nazioni la presenza all'interno, oltre delle classiche attività che ci avvicinano alle culture degli altri paesi ci saranno anche delle vere e proprie delegazioni, anche ambasciate e associazioni di categoria. Questo nuovo concept rientra nel nostro progetto di internazionalizzazione, affermato infatti il presidente di Nuova Fiera dell'Evante Gaetano Frulli. Ospiteremo paesi con i quali abbiamo avuto un dialogo per scambi commerciali e poi gli spettacoli di eventi gratuiti per tutti i visitatori. All'interno del quartiere fieristico durante l'orario espositivo ci saranno esibizioni viaggianti a cura del Circo Bianco, una compagnia di performers che proporrà performance originali ed emozionanti lungo i viali. A partire dalle 20.30 sarà poi aperta l'area eventi che proporrà un ricco e vario cartellone di iniziative, tra cui spettacoli live e DJ set. Ci saranno i Corona, Paolo Meneguzzi, Alexia, Valeria Rossi, Ayduci, Luca Dirisio, Sugarfree, Davide De Marini, Seglia Di Capongo farà tappa inoltre in Fiera dell'Evante, Renato Ciardo con il suo Cantatur che ospiterà la band di Rotta su Cuba. L'evento è organizzato da Telebari. Immancabile come sempre il nostro spazio, quindi targato Telebari e Radiobari all'interno della Fiera dell'Evante. Proprio da qui, da questa posizione, a due passi dall'ingresso agricoltura, trasmetteremo tutti i giorni i nostri telegiornali, il TB Sport e poi lo speciale Fiera dell'Evante a cura della direttrice responsabile di Telebari e Radiobari, Maddalena Mazzitelli, a partire dalle 13.45. Appuntamento dal prossimo lunedì 30 settembre. E i preparativi fervono anche all'interno del centro congressi che domani, a partire dalle 10.30, ospiterà personalità e istituzioni per la cerimonia inaugurale. Primo discorso per Vito Leccese, che fresco di elezione a sindaco di Bari, concentrerà il proprio discorso su un tema già battuto a Palazzo di Città. Si parlerà infatti di emergenza a casa, rivolgendo probabilmente qualche appello al Governo nazionale che ha da poco soppresso il Fondo nazionale per gli affitti. Il primo cittadino parlerà anche di disagio e fragilità sociale, per poi concludere con un appello per la pace. Sul nuovo concept di Fiera dell'Evante si concentrerà invece il presidente di Nuova Fiera, Gaetano Frulli. Una fiera costruita intorno agli espositori spiega che con i suoi soci, Camera di Commercio e Bologna Fiere, farà tutto ciò che serve per riqualificare le aree in concessione.